Ragazzi, se volete alzarvi e raggiungermi qui sul palco, io quasi quasi vado dall'altro lato. Grazie, sì. Prova, prova. Allora, non so se vogliamo fare un varco, se facciamo metà un po' più in qua, metà un po' più in là, così loro ci vedono. Se scorrete un po'... Per i poteri che mi sono conferiti dalla legislazione vigente proclamo Allora, sperando di riuscire a mantenere un po' di aplomb, vi chiamerò una alla volta per la consegna della pergamena. Pasquale Berardi Congratulazioni Carbutti Domenico Congratulazioni Carvignese Francesco Congratulazioni Giuditta Domenico Castigliego Gabriele Chiapperino Gabriele Chiapperino Congratulazioni Michele Cirasola Dove stai Michele? Congratulazioni Gabriele Cirillo Congratulazioni Chiara Cupertino Chiara Cupertino Congratulazioni Roberto D'Amore Congratulazioni Francesco De Astis Congratulazioni Francesco Paolo Del Vecchio Congratulazioni Francesco Di Ruggero Congratulazioni Congratulazioni Gabriele Giuseppe Galeazzo Congratulazioni Davide Grasso Congratulazioni E Pasquale Pio Guerra Congratulazioni Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa Io A questo punto Vi restituiamo I vostri ragazzi E le vostre ragazze Davvero Grazie per essere stati qui oggi A partecipare a questa cerimonia Un ringraziamento A tutta la commissione Per quello che ha fatto E continua a fare Per i nostri ragazzi E per il futuro del Politecnico Buoni festeggiamenti E buon futuro a tutti voi Grazie 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 a tutti